Buongiorno, parliamo oggi di circuiti risonanti. In questo circuito, dove abbiamo una RCL serie, abbiamo un esempio semplice di una risonanza serie. Cosa vuol dire risonanza? La frequenza di risonanza è la frequenza alla quale XL, cioè la reattanza induttiva e la reattanza capacitiva coincidono. Quindi che cosa succede? Succede che essendo una più J ωL e l'altra meno J1 fratto ωC, la parte reattiva coincide, più e meno si elidono. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che alla frequenza di risonanza il circuito ha un comportamento puramente omico, cioè il comportamento di condensatore e di induttore vengono annullati. Questo mi dà la possibilità di avere che cosa? Di avere praticamente solo la resistenza, come se ci fosse solo la resistenza collegata e quindi la corrente massima che fluisce nel circuito. In questo circuito andremo appunto ad analizzare, calcolare la frequenza di risonanza, la corrente massima che quindi sia appunto alla condizione di risonanza e tutte le tensioni in condizioni di risonanza. Quindi andremo a vedere ovviamente i diagrammi vettoriali per cui la tensione sul condensatore e quella sull'induttore avendo segno opposto si annullano. Allora per prima cosa andiamo appunto a calcolare quella che è la frequenza di risonanza. Allora la frequenza di risonanza che chiamiamo f ris è uguale linea di frazione a 1 fratto 2 pi greco 2 pi greco 2 pi greco e andiamo a sostituire con i nostri dati. Quindi 1 fratto, qui abbiamo 6,28 per la radice quadrata di 10 alla meno 3 per 10 alla meno 6. e andiamo a risolvere. E qua viene circa 5 kHz approssimato, ma tutto da ragionare meglio. A questo punto, quindi questa sarà la nostra frequenza di risonanza. A questo punto andiamo a calcolare la corrente massima, quindi la corrente massima abbiamo detto sia appunto alle condizioni di risonanza quando abbiamo praticamente l'annullamento dell'impedenza capacitiva con quella induttiva e quindi non sarà nient'altro che il rapporto tra win fratto la ZR. Quindi questo è il discorso del modulo. Quindi 2,30 fratto 20 e andiamo a risolvere quindi 2,30 diviso 20 ci viene 11,5 A. Poi le tensioni alla risonanza. Allora, andiamo a vedere che cosa succede. Quindi andiamo a calcolare il valore di xl alla risonanza. Quindi abbiamo più j ωl dove ωl dove ω è uguale a 6,28 per la frequenza di risonanza che è 5000 per 10 alla meno 3 che è il valore dell'induttiva e quindi avremo più j ωl 31,4. Andiamo a fare la controprova che in effetti la frequenza di risonanza è la frequenza di risonanza, quindi la riattanza è capacitiva che va allo stesso valore. Quindi qua avremo 1 fratto ωc. Quindi andando a sostituire avrò linea di frazione 1 fratto 6,28 per 5000 per 10 alla meno 6 quindi andiamo a risolvere. Quindi qua letteralmente ci verrebbe 31,8 però diciamo che facciamo un circa perché avendo approssimato la frequenza di risonanza va da sé che queste non siano proprio identiche. quindi vedete che qua abbiamo quindi la z totale che è zr più zl più zc e quindi è uguale a 20 più j 31,4 meno j 31,4 e quindi è uguale a 20 a questo punto possiamo andare a calcolare le tensioni quindi le tensioni, la tensione allora la tensione su la resistenza sarà uguale al valore della resistenza per la corrente quindi questo sempre alla risonanza quindi 20 per 11,5 e viene 20 per 11,5 di 230 che in effetti cade poi tutta sulla resistenza. Poi abbiamo la VL sarà uguale a xl per i max quindi xl 31,4 per 11,5 quindi 31,4 per 11,5 3,6,1,1 vc uguale a xl per i max e qua 31,4 per 11,5 uguale a 3,6,1,1 bene vediamo adesso i diagrammi vettoriali allora diagramma vettoriale iniziamo sempre, questo è sempre la risonanza iniziamo con la win la mettiamo qua ok allora win supponiamo sempre con sfasamento 0 quindi win poi in fase poiché il comportamento è come se fosse puramente omico abbiamo la itot ora non è molto in scala però l'idea è quella poi coincidente con la win abbiamo la vr vedete che è in fase e in più ha la stessa quindi la win coincide con vr poi abbiamo la vl che è in anticipo di 90 gradi ed è più lunga 361 vabbè più lunga della win quindi questa sarà la nostra vl e avremo la vc pari di pari lunghezza 90 gradi in ritardo rispetto alla itot e quindi è per questo che gli effetti si annullano poiché una è opposta all'altra e quindi il risultato finale sarà questo quindi qua abbiamo 90 e 90 quello si vede 90 e 90 qui sarebbe meno 90 bene con questo l'esercizio è concluso se sono stata chiara se vi è stato utile mi fa piacere mettete un mi piace iscrivetevi al canale ci vediamo domani per un prossimo video grazie 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 grazie